Gentili telespettatori, buona giornata! Inizia l'estate torrida di proteste della Shline che va principalmente alle manifestazioni degli altri perché lei è leggenda Organizzare una manifestazione, guardate che ci vuole fatica, tempo, organizzazione non è più semplice andare a quelle che fanno gli altri e finisci di giocare alla Playstation, metti le scarpe, vai alla manifestazione vai con la metropolitana, stai lì alla manifestazione dici sempre le stesse cose al microfono è grave, il governo è grave e poi te ne torni a casa e ricominci a giocare con la Playstation senza aver fatto nessun tipo di fatica non hai dovuto neanche preparare la manifestazione perché vai lì col microfono e racconti sempre le stesse robe perché la Shline ripete sempre le stesse cose è grave che il governo... ma va là, è grave è grave, anzi è positivo avere un'opposizione così è così il segretario generale della CGL quello che si sente il capo dell'opposizione, Landini si fa la sua manifestazione di piazza contro il governo voi direte, ma contro che cosa? perché contro il governo? come? la disoccupazione diminuisce aumentano i lavori a tempo indeterminato diminuisce il precariato vanno a protestare per che cosa? la Meloni taglia le tasse, il cuneo fiscale aumenta un po' la tredicesima si aumentano un po' le pensioni oltre l'inflazione voi direte, ma cos'ha da protestare il sindacato? mistero della fede alziamoci, proclamiamo e così lui va a protestare contro il governo un po' faziosetto questo Landini caro Landini tra una manifestazione e l'altra dove ti senti tanto capo politico perché non vai a rinnovare i contratti nazionali e fai sì che i lavoratori escano dalla povertà contrattando dei contratti decenti perché di chi è la colpa se negli ultimi trent'anni un italiano su quattro che lavora è diventato povero con degli stipendi che manco quasi manco nel terzo mondo ce l'hanno di chi è la colpa? della Meloni o dei sindacati che sono quelli che devono fare la contrattazione nazionale? punto di domanda quindi Landini fai una figura da andare a fare le protesti dovresti protestare contro te stesso dovresti andare in piazza da solo col cartello con scritto noi sindacati non riusciamo a incolparci a giustificarci scusateci per questi ultimi trent'anni che abbiamo distrutto quella che è la contrattazione sindacale quindi Landini invece di vergognarsi di quello che non hanno fatto i sindacati negli ultimi trent'anni va a manifestare contro il governo senza motivo e poi arriva l'hashline che si accoda un attimo la playstation va ad accodarsi alla manifestazione e poi continua a giocare e voi direte ma che senso ha tutto questo? bah una ragione di più ma che è una canzone? eh sì Maurizio Landini come Ornella Vanoni una ragione di più beh però non è una canzone Orazio Schillaci ministro della salute l'unico sindacalista a dirsi insoddisfatto è stato proprio il segretario generale della CGL sul tavolo delle consultazioni c'erano il rinnovo dei contratti le assunzioni il PNRR la medicina territoriale e il ministro da parte sua assicurato il proprio impegno anche rispetto alle risorse nella prossima legge di Bilancio Cisle e Will hanno parlato di incontro positivo e utile Landini invece che si sente il capo dell'opposizione si è dichiarato molto deluso ma la domanda perché molto deluso non ha risposto come Cisle e Will dicono incontro positivo e utile e Landini quello che gioca a fare il capo dell'opposizione si sente molto deluso e dice visto che lui aveva già programmato sta manifestazione non poteva dire come Cisle e Will positivo e utile l'incontro se ha già organizzato la manifestazione che fa? annulliamo tutto perché il governo sta facendo cose positive e utili allora lui si reputa molto deluso senza spiegare esattamente deluso da che cosa perché deluso non è e dice beh visto che sono deluso c'è una ragione in più per manifestare e scendere in piazza sabato 24 a Roma cari amici di sinistra che votate PD non lo so ma voi veramente andate in una piazza fasulla contro qualcosa che non esiste da Olandini che al posto che occuparsi di contrattazione nazionale gioca a fare il capo politico della sinistra visto che la sinistra è in mano alla Schlein fa ridere davvero c'è qualcuno che andrà in piazza a fare il burattino di queste persone qua mi sembra sembra qualcosa fuori da ogni logica ma lui Landinus dice si torno così in piazza per la difesa e il rafforzamento della sanità pubblica ma pensa a fare i contratti lascia perdere non fare politica fai rinnova i contratti non fare politica beh e insomma e allora subito la Schlein dice c'è c'è una piazza un altro sabato antifa andremo per dare il nostro sostegno che tristezza ma che triste gli hanno detto a questa Schlein in tutti i modi gli hanno detto guarda che stai sbagliando tutto ma cos'è sta piazza ogni sabato in piazza si va se c'è un problema serio grave urgente ma non si va tutti i sabati a protestare c'è il Parlamento e lì è il Parlamento la politica non la piazza con la bandierina rossa e il fazzoletto rosso al collo perché quella è roba da centro sociale la politica va in Parlamento non va in piazza vabbè insomma ma lei andrà a dare il suo sostegno e parla di trend negativo dopo anni in cui c'è stato un maggiore finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale trend negativo bene cioè bene insomma quindi CGL contro il governo sulla sanità contro l'autonomia differenziata poi contro contro il governo in generale ecco forse dovrebbe andare in pensione Landini Landini c'è mai pensato di andare in pensione e lasciar perdere perché giocare a fare il capo politico o rinnovate i contratti di lavoro da fame da terzo mondo o andate in pensione eh arrivederci a tutti e grazie 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 Grazie.